Arriva la stangata della UEFA nei confronti di José Mourinho e della Roma per quanto accaduto a Budapest dopo la finale di Europa League contro il Siviglia. Il tecnico dei giallorossi è stato squalificato per quattro giornate per il linguaggio offensivo all'arbitro inglese Taylor. Il club del tecnico portoghese è stato multato di 55 mila euro e dovrà risarcire la Federcalcio ungherese per i danni causati dai tifosi. Nella prossima trasferta europea i tifosi non potranno essere al seguito della squadra. La direzione dell'arbitro Taylor aveva fatto infuriare la Roma in particolare per un rigore non assegnato per un fallo di mano di Fernando. La UEFA lo scorso 2 giugno aveva aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Mourinho per insulti e linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara nel parcheggio dello stadio di Budapest. Mourinho rivolgendosi all'arbitro Taylor avrebbe detto Sei una fottuta disgrazia. Per poi aggiungere Rosetti è stato capace di dire che non è tu se non sei stato capace. La Roma come il suo tecnico era finita nel mirino della commissione etica e disciplinare del UEFA per condotta scorretta della squadra e per i lanci di oggetti, accensione di fuochi d'artificio, atti di danneggiamento da parte della tifoseria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.